buongiorno è si si occorre buongiorno siamo in partenza per tornare verso casa ma prima di tornare a casa ci fermiamo a bologna a bologna babbo dovevi girare dall'altra parte perché non metti l'audio quando c'è il navigatore accidenti a te e la tua durezza perché sei scemo e dicevo ci fermiamo a roma a trovare mio fratello come dicevo ieri sera nel blog di ieri sera e niente appena arriviamo a roma vi faccio sapere qualcosa comunque c'è anche lui e non l'abbiamo lasciato in albergo e vai ciao sì c'è anche kira ovviamente kira tanto ora dove dove andiamo noi viene anche lei quindi noi siamo per il no all'abbandono degli animali d'estate quindi kira in altre stagioni siamo arrivati al casello di roma per andare poi ora sulla via preenestina che è vicino a dove abita mio fratello alessio ha dormito per un'oretta infatti si vede bello pimpante adesso vero amore e si è bello pimpante è pimpante lui kira invece boh non lo so cos'è a lei com'è lei com'è lei è riposato kira kira sia bucciolana che cosa vuoi egocentrismo egocentrismo siamo arrivati ora stiamo andando a casa di mio fratello e non filmerò in casa sua ovviamente perché giustamente per la privacy e poi boh andremo a fare qualcosa forse un giro andiamo anche a mangiare qualcosa insieme abbiamo recuperato mio fratello e ora siamo già in centro a roma per cercare un posto dove mangiare più che altro per far mangiare il bimbo e siamo un po in crisi più che altro mio fratello in crisi perché non sa dove portarci abbiamo girato già un paio di posti ma uno era chiuso per ferie e l'altro era pieno quindi continuiamo a cercare qualcosa abbiamo trovato un posticino eh pappo abbiamo trovato è una storia antica un posto tedesco no infatti io ho preso rigatoni guava iata simone ha preso a griscia e mio fratello invece ha preso la trippa che non vedete perché è uscito fuori un attimo doveva fare una telefonata assaggio voglio vedere cose come com'è adesso invece si sta ciucciando un pezzettino di focaccia vero amore com'è la focaccia è buona è buona la focaccia sì siamo venuti a prendere il caffè in piazza san teustatio dice mio fratello qui fanno il caffè che merita allora si proverà vediamo se ci ha detto la verità alessi intanto si è addormito è già quant'è d'ora che dorme tre quarti d'ora meno tre quarti d'ora che dorme bon lo so che ore sono è ricco una quarantina di minuti forse sì mezz'ora è già una mezz'oretta che dorme magari forse sì un'altra mezz'ora 40 minuti vedrai se li fa speriamo allora abbiamo fatto un cambio di programma si rimane a dormire qui a roma abbiamo trovato un alberghetto sulla appia sulla via appia nuova stasera dormiamo lì e poi domattina di buon'ora dopo una bella colazione abbastanza sostanziosa si riparte per tornare a livorno quindi niente è piada con lui non con me mio fratello ci aveva gentilmente offerto di ospitarci a casa sua però a parte giustamente non mi pare il caso che siamo in vacanza non vogliamo essere di intralcio per nessuno soprattutto per lui e quindi niente stasera rimaniamo qui e vediamo anche cosa fare magari più tardi ora intanto ci andiamo dobbiamo accompagnare a casa mio fratello cambiare il bimbo poi andiamo in albergo ci rilassiamo un pochino ci facciamo una bella doccia perchè ho bisogno di farmi la luce perchè sono sudata come un porceddo soprattutto una bella doccia doccia io, doccia al bimbo, doccia a Simone già che ci siamo facciamo anche una doccia a Kira ma va bene così e niente stasera, serata romana ok siamo in albergo già da un po' e abbiamo trovato questo piccolo alberghetto di Kira che mi fissa allora dicevo abbiamo trovato questo alberghetto che è praticamente sulla via Pianuova è praticamente davanti all'ippodromo di Capannelle e si chiama Locanda delle Coste ed è a tutto tema corse di cavalli infatti hanno anche le camere con i nomi dei cavalli più famosi della storia che hanno fatto le corse qui poi noi abbiamo Nearco, Nevarco e poi ho visto c'è Varenne insomma Nearco si chiama la nostra camera e adesso ve la faccio vedere un po' nel dettaglio qui ovviamente c'è l'ingresso dove c'è un piccolo armadietto e una sorta di salottino qui c'è un divano con un puff lì c'è un frigobar qui c'è il passeggino di Alessio e poi girandoci allora vedete qui c'è la porta a sinistra c'è il bagno vediamo se riesco a trovare l'ingresso e qui c'è un bagno qui ci sono io ciao qui dietro la porta c'è la doccia che è stata usata perché ci siamo appena lavati io, Alessio e Simone i sanitari come tutte le case cristiane e poi girandoci di qua come vedete qui c'è un piccolo paravento dove c'è un lavandino se magari tipo mi facevo un piatto dopo di avere il servizio in camera mi potevo lavare in casa qui c'è un armadietto poi qui come vedete lì c'è la scrivania e qui c'è una scala che porta su alla zona notte adesso ci andiamo e qui c'è la zona letto qui c'è un armadietto qui c'è uno specchio ciao qui ci sono due sedie dove abbiamo buttato brutalmente i vestiti qui c'è la mia borsa qui ci sono le valigie qui c'è una Akira stanchissima Akira sei stanche? eh? lì c'è un simone brutissimo mutande e qui c'è un piccolo Alessino che dorme perché era stanchissimo come vedete qui c'è il letto qui sopra c'è un altro specchio qui c'è la zona della televisione l'unica becca è che qui ci sono poche prese dove poter mettere il cellulare infatti io il caricabatterie l'ho dovuto mettere lì dietro alla televisione però vabbè c'è da dire però che è molto più grande rispetto alla camera che avevamo a Caserta e la paghiamo solo per stasera 49 euro abbiamo pagato per una sola notte e direi che è molto 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 bella mi piace molto come stanza dove siamo Simo? è un ristorante alta quota vicino a Champina non distante dall'hotel dove dormiamo come ti sembra? prima impressione? mi sembra un po' da ribotta così c'è la mia parte spiega cosa vuol dire da ribotta alla buona però magari l'impressione è quella poi la cucina è buona è arrivato l'antipasto carpaccio penso sia spigola credo scampi e gamberi e lì dietro abbiamo le ostiche pronto amore? buon appetito ecco qui le seconde portate ho preso rombo al forno con patate e Simone invece ha preso il risotto di scampi che sia quasi finito com'era però amore? molto bene molto bene ora te lo faccio assaggiare Alessio un attimo anche a te Kira ora te lo faccio assaggiare noi siamo tornati in camera ho Alessio che mi sta prendendo appesati nella schiena Simone si sta spogliando e ora mi spoglio anch'io andiamo a letto anche perché sono le 11 e poi quel vino doveva avere particolarmente il tasso alcolico alto vero amore? vero nano? perché mamma mi gira la testa come si fa? la fermi eh la fermo ci provo non ci sta fermo si amore andiamo a nanna noi ci vediamo domani per l'ultimo vlog finalmente di questa mini vacanza si torna a casa si domani torniamo a casa e allora niente ci vediamo la prossima settimana lunedì prossimo con altri tre vlog di questa estate fai ciao amore fai buonanotte buonanotte ciao 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 Sì